Ciao a tutti, come è rottamare chi non ti merita? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ci tengo molto che tu ti iscrivi a questo nuovo canale di crescita personale perché è un canale in cui metti energie e che potrà darti, credo, dei risultati utili nella tua crescita personale, in amore, nel lavoro, nelle relazioni in genere. Allora, veniamo al tema, veniamo al tema come rottamare chi non ti merita. Intanto già il titolo, diciamo, dà delle indicazioni, cioè se una persona non ti merita, se una persona non si comporta come tu vorresti, devi imparare a rottamarla. Rottamarla, quando è che si rottama un'auto? Quando non serve più, quando è diventata inutile. Per cui, quando una situazione, una persona diventa inutile, devi rottamarla. Rottamarla cosa vuol dire? Fondamentalmente vuol dire che devi tolglierla dalla testa, vuol dire che non devi dargli energie, vuol dire che devi sostituirla con un'auto nuova, più funzionale, che va meglio, insomma. Questo rottamare significa cancellare, diciamo così, eliminarla come simbolo, cioè destabilizzarla, togliergli l'investimento emotivo che tu hai fatto su questa persona. Perché una persona diventa simbolo, diventa importante quando c'è un investimento emotivo che tu hai fatto su questa persona, cioè le hai dato amore fondamentalmente. Se tu dai amore a una persona, come dire, ti innamorerai ancora di più, perché fai un investimento emotivo. Quindi questa persona diventa significativa per la tua vita, diventa importante per la tua vita. Quando invece, nonostante tu abbia fatto un investimento emotivo e quindi ha letto simbolo una persona, questa non si mette a complementare le tue esigenze, cioè non fa quello che tu vorresti, ti dà di meno di quello che tu vorresti, si comporta in modo tale per cui non soddisfa quelle che sono le tue esigenze, devi rottamarla, cioè togliergli l'amore che hai dato. Poi dopo può succedere di tutto, potrebbe essere che questa persona si innamori di te, a quel punto lì che te ne frega. Oppure magari te la puoi tenere come ruota di scorta, diciamo così, non lo so, puoi fare quello che vuoi, ma l'importante è che rottami. Se tu non rottami, cioè non gli togli l'amore che tu gli hai dato, e come fai a togliergli l'amore? Adesso poi lo vedremo. Succede un qualcosa che è stato spiegato dalla psicologa Ziegernik, che cioè questo, quando un qualcosa viene lasciato aperto, non viene portato a termine, non chiudi una relazione, ma stai in una situazione di sofferenza, quindi, quando quindi un compito, una situazione non viene culminata, non viene conclusa in qualche modo, si crea nella tua testa uno stato mentale di tensione che impedisce alla mente di iniziare qualcos'altro, di iniziare qualcos'altro, e quindi resti in un impasse in cui sei bloccato o bloccata, in una situazione senza poter venire fuori da questa situazione. Quindi entri, come voglio dire, stai con una persona che ti dà sofferenza e quindi non riesci a rifarti una vita, non riesci a trovarti in un'altra, ma questo dipende dal fatto che tu non l'hai rottamata. Quindi bisogna imparare a rottamare, a rottamare portare dallo sfascio a carrozzi emotivo, cioè rottamare significa togliergli l'investimento emotivo, come se fosse un'auto vecchia, come se fosse un elettrodomestico rotto, come se fosse una situazione di questo genere, devi togliergli l'investimento emotivo, devi togliergli l'amore che l'hai dato. E come fai a togliere l'amore che l'hai dato? Beh, ci sono diverse strategie che adesso andremo a vedere. Ti ricordo però di iscriverti al canale, di lasciare scritto nei commenti se ti sei mai rottamato qualcuno o qualcuna che non ti meritava, o se hai vissuto situazioni in cui invece sei in stato di sofferenza. Insomma, lascia il tuo commento qua sotto, perché ci tengo molto che tu scriva i tuoi commenti in modo tale da poter, diciamo, dare un contributo alla community. E inoltre iscriviti a questo canale, Crescita Personale con Massimo Terramasco, ottengo molto anche a questo, perché se ti iscriverai potrai, come dire, dare un attestato di simpatia a me, insomma, attraverso la tua iscrizione e attivare anche la campanella, così non ti perderai i nuovi video. Allora, cosa fare per rottamare? Intanto bisogna passare da un presupposto di accettazione, cioè accettare cosa vuol dire? Beh, accetto che questa persona non si è comportata nel modo giusto, accetto che questa persona ha fatto questo, accetto che le cose non possono essere lasciate a metà. Quindi, primo punto è l'accettazione. Secondo punto è la conclusione. Devo chiudere, devo dare una svolta, una svolta, una chiusura a livello simbolico alla situazione. Quindi dare una chiusura a livello simbolico cosa significa? Significa che devi praticamente fare una cosa importante, devi fare il funerale, tra virgolette, no? Perché noi siamo predisposti ad elaborare il lutto, siamo predisposti ad elaborare le sofferenze, ci sono persone che riescono anche ad elaborare lutti molto importanti, molto più importanti che una banale storia sentimentale effettiva, che adesso dico banale, ma magari poi le persone quando la vivono non la vivono come banale, la vivono come un qualcosa di chissà cosa, insomma, come un qualcosa di importante, come un qualcosa di, diciamo, come un evento particolare. Invece poi alla fine si tratta semplicemente di un evento banalissimo, molto banale. Quindi devi imparare a eliminare, diciamo, dalla tua vita, togliere dalla tua vita questo evento banale, renderlo un qualcosa di, diciamo, inutile. E quindi devi fare il funerale. Il funerale può essere proprio a livello simbolico, a livello rituale, no? In modo tale che la tua parte emotiva capisca che veramente questa cosa qua non ti interessa più. Puoi farlo in diversi modi. Puoi prendere una fotografia della persona, bruciarla, darle fuoco, prendere le ceneri e spargere il vento. Puoi mettere una scatolina con una croce sopra e l'epitaffio scritto sopra, mettere dentro la fotografia e andare a seppellire, diciamo così. Fare proprio un funerale, insomma, un funerale vero e proprio. Puoi dire, recitare anche una preghiera per il defunto, cioè il caro estinto. Quindi proprio a livello simbolico come se te lo togliessi. E poi, questo è importante, perché è importante perché la nostra parte emotiva non riconosce, diciamo così, gli atti simbolici dagli atti normali. Quindi diciamo che questa è una sorta di psicomagia, per dirla alla Jodorowsky, no? Una psicomagia che vuol dire un atto simbolico che ha la funzione di comunicare con l'inconscio, con la nostra parte emotiva. In questo caso comunichi questa persona, non c'è più. E poi, alla fine, devi togliere questo investimento emotivo che tu hai fatto. Ora, talvolta è difficile togliere un investimento emotivo da una situazione, però devi dare, quindi, come dire, l'energia è quella per togliere da una parte e lo darla dall'altra. Il modo migliore è darla a te stesso. Tra virgolette fare, diciamo, utilizzare un po' quello che fanno i narcisisti, ma i narcisisti lo fanno inconsapevolmente. Cioè, quindi fare un investimento narcisistico su se stessi. Un atto d'amore verso se stessi. Quindi andare ad alimentare il proprio orgoglio, andare ad alimentare la propria dignità, andare ad alimentare la propria forza interiore, dire io sono la persona più importante del mondo e a sfregio quasi di questa persona non mi interessa, ma la voglio togliere dai piedi. Quindi autoalimentarsi, autocarricarsi. E' ovvio che questo devi farlo alimentando anche attraverso il movimento, attraverso le azioni, fare qualcosa di importante, perché se te ne stai a casa a piangere, se te ne stai a casa a, diciamo, a soffrire, beh, resterai in quello stato di sofferenza lì. Invece l'orgoglio deve spingerti a fare delle cose, a fare altro, a investire le tue energie in altro, coltivando un progetto, coltivando una situazione, coltivando altri contatti, coltivando altre amicizie, coltivando altre cose, insomma, e coltivando soprattutto l'orgoglio per te stesso. La forza di dire questa volta io ce la faccio, questa volta non tolgo delle balle e lo rottamo per sempre, lo depersonalizzi, gli togli quell'anima che gli avevi dato, perché le persone sono coinvolte, diciamo così, si innamorano quando ci mettono energie, e quando ci mettono l'anima. Immagina che tu, ad esempio, compri una casa e te la redi come vuoi, te la fai come vuoi, insomma, diventa un simbolo questa casa per te, diventa un qualcosa di importante, gli dai vita, la crei a tua immagine e somiglianza, ecco. E bisogna fare quello, bisogna togliergli questo simbolo, questo potere, dandola a qualcos'altro. L'ideale è darlo a se stessi, perché se lo dai a te stessa o a te stesso, beh, riesci a ottenere, diciamo, dei grossi risultati da questo punto di vista, risultati che neanche la tua preferenza di immaginazione ti può far pensare quanto siano potenti. Quindi questo è quello che devi fare per rottamare chi non ti merita. Per questo video è tutto, lascio i commenti qua sotto, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti!